Primo punto in League, però un punto amaro. Sì, perché come detto in precedenza abbiamo interpretato la partita in modo corretto, giusto. L'approccio è stato importante e penso si sia dimostrato anche tecnicamente. Abbiamo sempre tenuto palla a noi, loro non sono mai stati pericolosi. Poi l'episodio sfortunato capita e ce ne faremo una ragione. Come mai, se è una pecca, si deve trovare difficoltà a fare gol? Dovevate chiudere la partita, avete avuto le occasioni, però non siete stati abbastanza civici. Il discorso di prima degli episodi, come ci può girare bene ma come può girare il mare. Purtroppo oggi è andata male, diversamente da come era andata a Sassuolo che abbiamo vinto al 96esimo. Poi sono gli episodi a determinare le partite, però come detto in precedenza abbiamo dominato noi, quindi non ci sentiamo sicuramente inferiori a loro per questa partita giocata. Fabio, anche il primo punto europeo però è anche un punto, una prestazione più che altro che vi dà consapevolezza per il campionato. Siete partiti meglio di come vi aspettavate? Hai detto bene te, la partenza è stata ottimale. Ci siamo parlati prima di affrontare questa gara e l'approccio è stato quello richiesto. Sotto questo punto di vista non ci ramanichiamo niente. Poi il fatto di finalizzare qualche occasione in più e di essere più cinici sicuramente quello è un aspetto da migliorare. Ammazzino che ci sia l'amarezza, no? Volevo capire se già avrete parlato adesso nello spogliatoio o cosa vi siete detti. Sinceramente nello spogliatoio c'è stato un po' di silenzio anche perché appunto sapevamo che la vittoria poteva essere concreta, da che i tre punti potevano arrivare e riuscire a guantare quello che poi è l'Atletico Madrid. Adesso saranno quattro partite rimanenti molto importanti dove l'approccio deve essere questo e poi magari riuscire a finalizzare un po' di più. Ecco perché credete anche nella qualificazione visto che comunque avete dimostrato di potervela giocare con tutti. Sì, sappiamo che il Feyenoord è una squadra molto forte quindi sicuramente con loro la prossima partita bisogna avere un aspetto molto importante. Poi contro il Celtic ma anche contro lo stesso Atletico secondo me ci si può giocare insomma. Domenica alla Juventus ci credete nella zona playoff a fine campionato? Questo è un obiettivo importante quindi sognare sì però bisogna rimanere con i piedi per terra. Sono passate cinque partite e ne rimangono ancora tante quindi sicuramente dobbiamo rimanere focalizzati partita per partita. Grazie.